Sabato 2 settembre a San Nicola Arcella nel corso della cerimonia di premiazione. Ma intanto coloro che entrano come finalisti e nell'antologia sono... Vi sto torturando, vi sto torturando eh, mi piace, sono un sabico ma a fini di bene. Orrore sul Saratoga di Gianluca Calabria. Miracoli di Andrea Cavallini. Do ut des di Sandro Dettori. Il canto della Magnolia di Valentina Di Rienzo. La lettera di corsa di Pierpaolo Fiore. Uomo e mare di Simone Fraschetti. Millennium Bug di Amigdala Pala. Ourang Medan di Francesco Papa. Inverno al mare di Irene Pavan. Rune di Claudia Perfetti. Cucca Sina Olet di Alessio Petrolino. Celeste di Francesco Sciannarella. Congeri e talassica di Sergio Tulipano. L'uomo in mare di Giuseppe Villella. Signori, questi sono i nomi, i titoli dei racconti, i nomi di autrisi e autori che potrete trovare nel volume Uomo in mare, punto esclamativo, che uscirà ai primi di settembre e che sarà presentato al festival Torre Crawford a San Nicola Arcella. Per ulteriori informazioni guardate il sito www.premiotorrecrawford.it e le pagine facebook e instagram del premio Torre Crawford.